Daphne Caruana Galizia è stata uccisa per il mestiere che faceva. Muore perché nel suo lavoro di giornalista di inchiesta aveva scoperto, aveva documentato, finché ne è stato possibile farlo evidentemente il livello di compromissione tra la classe dirigente del paese imprenditori ma anche e soprattutto figure chiave del governo laborista al potere e il mondo cosiddetto della finanza nera, il mondo di sotto di quell'isola. Il giornalismo oggi è l'antidoto in questo passaggio epocale in cui per la prima volta si concepisce, si rende in qualche modo o addirittura si prospetta come possibile, come orizzonte possibile una nuova forma di democrazia illiberale. Quello che voglio dire è che non è data una democrazia in buono stato di salute, in salute non è data una democrazia sana e trasparente in cui non ci sia un giornalismo vivo, vitale, libero. È un omaggio non alla memoria di una giornalista uccisa ma è un gesto concreto per mantenere vivo e per difendere il significato del mestiere che faccio.